Ciao ragazze, bentornate su Filomen Amore e benvenute nella mia camera da letto. Oggi per la nostra rubrica Dress Your Home sistemeremo insieme la mia camera da letto. E che c'è di particolare? Bene, voi di solito nei video vedete la camera tutta bella, sistemata e ammacolata, in realtà non è sempre proprio così. Oggi vedremo insieme come rendere al meglio la camera, quindi come metterla in ordine, in non più di 20 minuti. Non ci credete? Provala per credere. Ta-da! Prima cosa da fare è di fare il letto, in assoluto. Iniziamo! 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 Stanno suonando le campane tipo da mezzo ora ha smesso. Bene, continuiamo con le pulizie. Ok, avete fatto il primo passaggio, quello fondamentale, prima di aver rifatto il letto non si può fare nulla. Ma adesso andiamo a vedere una cosa molto più interessante, quella che sono sicura anche voi avete nelle vostre camere, ovvero il caos sul pavimento, ragazze. E' arrivato il momento di sollevare, quindi step numero due, sollevare dal pavimento tutto quello che trovate. Ok, mi raccomando, dovete sollevare tutto dal pavimento, magari appoggiarlo sul letto, poi dopo troveremo un posto anche per gli oggetti, incluso il vostro tappeto. I vostri tappeti vanno scossi almeno, ragazze, una volta a settimana, mi raccomando. Terzo punto, uno dei più importanti che sono sicura, anche voi non rispettate mai, bisogna raccogliere tutte le cose che abbiamo lasciato in giro e che diciamo non appartengono propriamente alla camera da letto. Andiamo a vedere quali? Andiamo a vedere. Un esempio? Eccolo qui, il comodino, pieno di roba che non serve in questa stanza, almeno quando la mettete in ordine. La bottiglia d'acqua, via! La tisanina della sera precedente, via! Torno in cucina, laremo alla tazza. Pazzoletti, fazzolettini, via! And the trash! Let's go! Pronto? Ciao Francesca, sì! Ah! Stai venendo a trovarmi, eh? No, no, va bene! Sì, sì, io avevo già sistemato casa, sì! Sì, sì! Tra 20 minuti sei qui? Ah, ok, ok! A dopo, ciao, ciao, ciao! SOS, ragazze, se qualcuno vi chiama all'ultimo momento, il vostro fidanzatino, la vostra amica, i vostri genitori, perché vengono a trovarvi, non potete in ogni caso solo aver rifatto il letto e sollevato gli oggetti in giro dal pavimento. Bisognerà affrontare anche una delle nostre più grandi paure. Quali? Andiamo a vederla insieme. Ta-da-da-da! Qual è? Questo! Tutti i vostri vestiti sparsi per casa, lanciati durante la settimana. Quindi, al lavoro e facciamoli scomparire, uno per uno. Una piccola tip, se proprio andate di super fretta, vi consiglio di armarvi di grucce, ragazze. Sistemando tutte le cose sulle grucce, recupererete un sacco di tempo e soprattutto un sacco di spazio. Quindi non dovrete perdere tempo a stare lì a piegare tutti i vestiti, ma soprattutto, tutto andrà in ordine in un battibalena. Non ve lo dovrei dire, ma ve lo dico. Vi do un'altra tip. Se proprio avete una montagna di vestiti, tipo i miei, che vi ho appena fatto vedere, e non avete proprio il tempo né per metterli sulle grucce, né per piegarli, né per farli volatilizzare, c'è un modo. Avete una doccia? Bene. Aprite la porta della doccia e mettete tutto là dentro. Chiudetela. Ma la cosa più importante è ricordatevi dopo, prima di aprire l'acqua, di aver messo i vestiti lì dentro. Sicuramente nessuno ci andrà a guardare. Ok, siamo arrivati all'ultima cosa da fare per avere una camera super sistemata in soli 20 minuti. Ovvero quella di dare una piccola spolveratina in maniera veloce. Ci sono tanti modi per farli. C'è qualcuno che fa così. Tada! Calcini alle mani e via di spolvero ragazzi! Bene. Bene, io non preferisco questo metodo, assolutamente. Rimango fedele al mio fazzolettino Swiffer, quindi mi armo di panucattura polvere e inizio a spolverare almeno i comodini, la testiera del letto se è in legno e basta, perché sono le cose che sono più a vista. Dopodiché, ovviamente se avete un cassettone, anche quello. Dopodiché partirò con la pulizia del pavimento, che nel mio caso affiderò a briciola. Ok ragazzi, rieccoci al punto di partenza. Queste erano le mie piccole tip per pulire e sistemare la vostra camera in circa 20 minuti, dovreste farcela tranquillamente e soprattutto tenendo presente le priorità. Quindi, quali sono le cose più importanti da fare? Le abbiamo viste insieme. Fatemi sapere nei commenti se questa guida vi è stata utile, ma soprattutto quali sono le vostre priorità e i vostri segreti per riuscire a sistemare la casa in un schiocco di vita. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi qui, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e volete altri video del genere su mia rubrica Dress Your Home e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!